Crepe sal salmone con crema di avocado Le crepe sal salmone con crema di avocado sono una ricetta dal sapore delizioso e dall'aspetto invitante. Sono perfette per una cena veloce, ma allo stesso tempo raffinata. La farina di grano saraceno dona una consistenza leggera e friabile, mentre il salmone e l'avocado conferiscono alla ricetta una nota di eleganza e di gusto. Ingredienti Farina di grano saraceno, salmone, avocado, olio extravergine di oliva, sale, pepe, erba cipollina in una ciotola, unire 200 grammi di farina di grano saraceno con 200 millilitri di acqua, un pizzico di sale e mescolare fino a ottenere una pastella liscia ed omogenea. In una padella antiaderente, scaldare un filo di olio a fuoco medio. Versare un quarto di pastella e cuocere per 2 a 3 minuti, fino a quando i bordi delle crepe si iniziano a dorarsi. Girare e cuocere ancora per 1 a 2 minuti. Tagliare 100 grammi di salmone ad adini, unirlo a un cucchiaio di erba cipollina tritata e un pizzico di pepe. Dividere il composto in 4 parti uguali. Distribuire un quarto del composto di salmone su ogni crepe, arrotolare e riporre in un piatto da portata. In un frullatore, versare un avocado maturo ben maturo, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frullare fino ad ottenere una crema liscia. Servire le crepe sal salmone con una cucchiaiata di crema di avocado e una spolverata di erba cipollina tritata. Le crepe sal salmone con crema di avocado sono una ricetta sana e nutriente, perfetta per una cena veloce ma allo stesso tempo raffinata. Le crepe sal salmone con crema di avocado e nutriente, perfetta per una cena veloce ma allo stesso tempo raffinata. Le crepe sal salmone con crema di avocado e nutriente, perfetta per una cena veloce ma allo stesso tempo raffinata. Le crepe sal salmone con crema di avocado e nutriente, perfetta per una cena veloce ma allo stesso tempo raffinata.